20 anni fa ci lasciava uno dei più grandi artisti del Teatro Mondiale, Eloardo Di Filippo. E per celebrarlo sono tantissime le iniziative, dal nord al sud della penisola. Mostre, per presentazioni, per formasse errarie. Tutte iniziative che puntano a domaggiare e a raccontare alle nuove generazioni che non hanno avuto il privilegio di aprirlo sulla scena. Chi fu davvero Eloardo? Un artista tutto tondo, capace di riprendere la tradizione delle maschere popolari italiane, di trasformare il pietretto nell'ipopassa riguardo del pensiero, di costruire una commedia dove si dà spazio ai giovani e al loro futuro. Eloardo Di Filippo è conosciuto come commediografo, tragico, dramaturgo, attore e regista. Tanti sono le sue commedie. Le più note al pubblico restano Filomena Marturano e Natale in casa Pupiello. Anche il laboratorio di messaggio in scena ha voluto omaggiare il grande Edoardo come attore, regista e guida. In riferimento alle sue commedie, la scelta è ricaduta su Natale in casa Pupiello, che è una commedia in vita da Napoli che si presta a una lettura fantastica, anche se con la statura realistica. Il preside è comunque una distrazione magnetaria e ossessiva, il simbolo della famiglia unita. Nel nostro piccolo abbiamo rivisitato alcune scene, trasformando il diretto napoletano in dialetto cilise. Abbiamo voluto far risultare il valore, ma soprattutto alle crisi della famiglia e nel 1931 e nella società contemporanea. Edoardo diceva di questa commedia che era nata come un patto trigemino, con una gravidanza di quattro anni. Edoardo, buona visione! Capita Ancon Un'ignor Si Ida prima volta lo hazi, a chiestiatico vi bandata in prezento, puneamme, da domnii e, insta, puneammi e strazzi. Puneammi e, tre'mochiditi, prezisi menti, suprunum imbreni. Ai vrei, non ne piaci. Da'i posta, așterejiti, te ho strazzi, va nemochidati, e ammiteasi prezento. ma c'è il mio prese, mi piace grazie, a che mi piace ma, a ciò qua da lì, ma, grazie e beh, ci ripartiamo da lì, non è capace tutti dopo già, già ci ripartiamo da lì, nessuno treppe con la pega ci ripartiamo di colasso e non pero, intanto io mi rendothe ma vede수 ascoltate una copierata C'è il Nazareth un'anna? Ah, Pascale, qui si è la sala? Si, si, sei il Nazareth, non è il mio papo, non è il mio città, perché è il mio città, non è il mio città? Sì, è il mio città. E, se a vita già un'annissi? Si, non è il mio città, non è il mio città. C'è un'annissi di roba, non è il mio città, non è il mio città. E, sai che di ci siamo invece? E' crescutivo. C'è poi essere amici? E' crescutivo. Ma è successo. Ma è successo. Ma che sei? Che sei? Ora è il signorale che è tutta. E' un'altra persona. E' un'altra persona. E' un'altra persona. Come si è? Ma passava? Ora, la sera passata, non sa. E' un uomo. E' quella. E' un pulito. Non si è aggattato. Ma che aspetta. Di armi cavato? E' fatta. E' una bella polizia all'estate. E' una bella polizia. Che fai? Si va. Che fai? Che fai? e poi uscire, arrivo più a bambino a quel dono non c'è, non ho dovuto fare le spattoli e di voi da chi è? non le voglio, ho domandato solo se avete visto ma tu, guardi qui qua a dove metti? a dove metti? a dove metti? a dove metti? sotto il letto? e qui tu puoi entra sul canale? non c'è niente, non c'è la spattoli su un palito come andate all'inistro? eh! ma non lo vedete? ehi, la so, così perché si mette la spattola su un po' eh, sei ben giusto, quindi come faccio? ma non ci vogliere essere e l'altro, e l'altro è matricolare ehi, non ci mai divenuto niente non ti dici, confesso ma se, a me non mi piace ma è possibile che a ciò che succeda non hai scattare se sembra qualcosa di meglio? ma come dovrai scattare? ma no, ho un po' di latte, ma e te la so metti tu niente? e ti faccio, l'amici e ti faccio e io, un momento ma anche perché se non sa che l'ispettore non c'è tutta la pelle e poi non si vende pure le scarpe di l'unione c'è, va a scape fanno un bucchietto e va a dire si, si, me ne vado e a ultime istanze questo lato è un ragazzo e a me dici non c'è una responsabilità no metti un scattolo qua dopo il fiesto ti faccio la coppia e te la fai lì si è fatta la volontà di vivere ma perché non lo so? ma c'è l'unione come tu? e ti te la usa il muro come te prendi l'unione e c'è da monti le scarpe di un peccè oh, non so quindi, tenevo che ottenere le scarpe già passuale non c'è te io ho ragione come? ottenere le scarpe siete pure ragione? sì, ho ragione ho ragione da vendere ma con te adesso io le scarpe me ne sono vendite perché mi credevi che non ti alzate più no 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 non so che senti come? io ero qui come? dove la scuola della Marina? e tu c'è quella di me quando è venuto il dottore parlo chiaro ha parlato di te? si ma che conditi? che cosa mi nascondete qua? la vedare la vedare la vedare un dottore che si cascava che si vede la cosa un dottore e io non c'è mai diverso se non l'estate ti preoccupi fai pulita a posse non sei senso nel futuro ora te lo vedi allora ricordi ben dito mi sta parlando quello dalla spazzese che ha parlando poi la martingale tei a tuoi non è te non si tei a tuoi passare tei a tuoi Ma dai chiara dai chiara, ve levo questi? Quando siamo andati a lavorare prima, un muore? Almeno aspetta un muore contaviglio, no? E c'è di che ti pesavo a dare loro così? Tu sei mio fratello, per no per poi aspettare a me. Mettetevele a porta, a ci siamo andati a lavorare qui. Il povero abitore a casa, il mio abitore a casa, la mia amica faccio. Tu sei carino? Armi, è nata in via! Nata in via! Beh... Ora non l'ora, la scarica, tu sei ancora scontanto. Non ti chiii, non ti chiii, ti chiii, ti chiii, ti chiii, ti chiii. Ti chiii, ti chiii, ti chiii, ti chiii, ti chiii, te li hai ripestiti. E muòn un scherzo, è maraiata, va a scherzate, va a scherzate, va a scherzate. E qui il prato, mi chiii, si chiii, si chiii, ti chiii, uno scherzo, ti chiii, parto che puoi la fiè, che se vede, pari atti. Cari atti, pari atti, pari atti al mare. Pari atti a tutti. Scusa, mi abbraccio. Lascia, avevi un piastro? Un carievo, non vengi costrucati? A tu, se ne vanno tolto il misturo. No, non vengono a riuscire, non vengono a riuscire. Tu sei il nani che non stai a casa, tu sei il nani che stai. Tieni un garanti sopportato, se voglio bere. Ma certe volte, non stai mai niente in fatica. Se non buoni maglioni, ma te vengarà, hai dito. Come dici un pochino in un capposito da scuola? In due mesi di dicembre? E con dolce? Hai la cosa, se ne ti tocca ancora. Non hai capito? Adesso chiuso il vicino. Usate che ho i soldi di sede. Dopo le viste, chiamano i soldi. Tu fai fare un paio vestito da un'altra parte. Ti piace, ah? Dimmi un vecchio. Non prese, ma a me non mi piace. Bene. Tu fai fare un po' di un camicia. E' accattare a tirare le vestiti. Così ci ti acchi con la mia. Faccio una bella rotunda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda la montagna. Guarda, scena. L'acqua lega. L'acqua lega. L'acqua lega? Si. L'acqua lega. Mettere in te lo blebo e qui. La pratica, eh? E scena l'acqua. Ti piace, ah? Non mi piace, ah? Io sto dico, che a te mi piace, no? Ufa, a ti è, che mi faccio un po' di un modello. Come faccio la dica, c'è ancora una regia scicciata? Non mi piace. Ma ancora una regia scicciata? Non mi piace. Come ti capisci? E da casa mia, canarci? E sì, ma... Sì. Ti sei da questa casa, se faccio la prese. Ma qualcosa, a me non mi piace. E' acclairato per la tiglia. Sì, ti noi ho visto? Ma ho visto? Ma ora, sei tu come si vuoi? Chi mi fosse? E' così, perché ne abbiamo mai vinto in una città. Cioè, non c'è l'icolo, non c'è l'accusa, non c'è l'accusa? Non c'è l'accusa, non c'è l'accusa non c'è l'accusa non c'è mai mai cazzo. Ma non c'è l'accusa, non c'è l'accusa, non c'è l'accusa, перри Finlandia fa' shooting l'elettorio riuscirà Non c'è un po' di più, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. Non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. Grazie. 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 Il nostro cuore è giusto, che è già via. Come si fa? Abra un vento all'alma, come un cura? Si conosce il mio cuore, come sta avendo? Come se fuori, anche il mio soltanto, come la cesta? E poi è stato il cuore, che è già via. E poi è stato il cuore, che è già via. Grazie. Brava! 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 Grazie! Grazie! Brava! 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 Grazie! Brava! 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 Buongiorno a tutti i nostri amici. 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 e me ne riuscite per il ciotato Altaviva Daniela Belenota Launy Melia Pagliato Anna E di poco Dante Signora Scala Ligoro Amaro Oh, sono una donna Ligoro Amaro Barca Michielo Luzza, la terza etica L'inizio per la foglietta Luzza, la terza etica Luzza, la terza etica l'inizio per la foglietta e il dirigente Luzza, la terza etica Per il ciotato Un altro grazie all'amministrazione comunale che ci ha ospitato qui in tiardo Ringraziamo l'assessore Maria Angela Latorale il sindaco e il testico del riuscito suono e il cerco I professori Un grazie particolare del riuscito del riuscito Al mezzo soprano non c'è il salone del liceo classico Margherita Urso Al piccolo, la vera e famosa Marco Epigoco l'album Al piccolo, la terza etica l'album All'avance Al piccolo, la terza etica Ayica Luzza, la terza etica Luzza, la terza etica Glacias Grazie a tutti Luzza, la terza etica Maria Lisa Chambrani Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.